L'attività di controllo e di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine deve continuare al massimo livello per fare fronte a questa seconda ondata di contagi da coronavirus e la riflessione è emersa dalla riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte tutti i prefetti della regione. Per quanto riguarda le articolazioni delle prefetture, noi per il prossimo fine settimana e quello successivo abbiamo, d'intesa con le forze dell'ordine, previsto una serie di controlli intensificati soprattutto nelle aree di maggiore assembramento. È chiaro che la nostra attività non è rivolta a sanzionare, questo lo voglio dire, quanto piuttosto a far capire l'importanza della prevenzione perché comportarsi correttamente in questo periodo è fondamentale per evitare l'espandersi della malattia. I marchigiani, ha tenuto a precisare da punto, tendono ad essere rispettosi delle regole dal distanziamento all'utilizzo della mascherina, ma naturalmente si può fare di meglio. Dal primo di ottobre al 20 ottobre le forze di polizia hanno controllato qui circa 16.000 persone nella provincia di Ancona e ci sono state soltanto 23 sanzioni. Questo è un buon indice, ma dobbiamo continuare in questa direzione perché altrimenti viene vanificato tutto lo sforzo di creare una rete di prevenzione in attesa che poi si debba emanare qualche altro provvedimento ancora più severo.